L'ospedale Landolfi rischia il blocco totale, così non si può più andare avanti. I lavoratori riuniti in presidio permanente nei locali della direzione sanitaria non usano mezzi termini. Siamo qui a rappresentare le difficoltà ormai storiche di questa struttura ospedaliera, sia in termini di organizzazione che di personale. A parlare è Lidia Rinaldi. Noi come USB siamo qui a rappresentare le difficoltà oramai storiche di questo presidio ospedaliero. Difficoltà dal punto di vista di organizzazione e difficoltà soprattutto per carenza personale. L'ospedale è un ospedale che assiste a un grosso vaccino di utenza. Più volte ci siamo scesi a fare presidi, ma non abbiamo risolto il problema. La direzione ha promesso più volte di incrementare il personale che manca nei reparti, ha promesso ma non ha mantenuto. Concretamente cosa si chiede per il landolfi? Si chiede che venga incrementato il numero di personale, perché attualmente opera con personale in autosourcing, ma neanche questo è sufficiente. Quindi ci sono carenze di organizzazione, carenze nel rispetto soprattutto delle leggi del Decreto 7 e della 161 sul riposo obbligatorio allo smonto notte, sul problema delle pronte disponibilità che non possono essere utilizzate ancora come turni normali, quindi straordinario.